Quando dico agli amici stranieri che la mia regione sta diventando leader nella potenza di calcolo dei big data, sono stupiti. Loro conoscono l'Emilia Romagna per la bontà del cibo, la forza del sistema industriale, l'accoglienza turistica della riviera, la bellezza delle città e dei borghi. Ci chiamano Food Valley o Motor Valley, ma non sanno che stiamo diventando una Data Valley. L'intera regione è percorsa da una rete dedicata all'innovazione e ora trova il suo centro qua, nel nascente Tecnopolo ex Manifattura Tabacchi di Bologna, che a breve diventerà uno dei maggiori centri di calcolo al mondo. Questo è il primo super computer arrivato da poco. È del centro europeo per le previsioni meteo, che avrà qui il suo data center e servirà a tutto il continente. Questo cervellone pesa 180 tonnellate. Per portare i materiali sono stati necessari 70 tir, costa 100 milioni di euro. È in grado di processare un milione di miliardi di operazioni al secondo. Vuol dire che in un secondo può duplicare 1500 foto ad altissima risoluzione e ti avanza anche un po' di tempo. Il sistema è così complesso che per accenderlo la prima volta servono sei mesi. Capite perché non posso chiedere di spegnerlo per il rumore? Ma questo è solo l'inizio. Tra poco al Tecnopolo arriverà Leonardo del Cineca, un altro super computer che rispetto a questo raddoppia. doppia potenza, doppia grandezza, doppio posto. Poi ne arriveranno altri due simili a questo. Il super computer dell'Istituto di Fisica Nucleare, che fa calcoli per il CERN di Ginevra, e quello dell'Istituto di Astrofisica. A quel punto il Tecnopolo di Bologna avrà l'80% della capacità di calcolo d'Italia, che sarà uno dei più importanti al mondo. Se è vero che i big data sono le nuove miniere, qui ci sarà tanto da scavare. Stiamo parlando al futuro, ma è un futuro vicino, due o tre anni. Tutti questi investimenti sono già stati finanziati per una cifra complessiva di oltre un miliardo. La metà solo per i super computer. La cosa più interessante è l'ecosistema che verrà a crearsi. In questa area, che ospitava l'antica manifattura tabacchi, si trasferiranno importanti centri di ricerca italiani e internazionali di varie discipline. Dalla climatologia alla fisica, dalla sanità ai big data. Il Tecnopolo di Bologna sarà quindi una città dell'innovazione, in cui lavoreranno oltre 2.000 persone. Io però avevo una curiosità. Con questi super computer, che cosa si può fare? Mi hanno risposto, tutto quello che ti viene in mente, più altre cose che non ti immagini nemmeno. Con questa capacità di calcolo si possono fare cose incredibili, come perfezionare invenzioni prima di realizzarle. Simuli virtualmente l'auto che ancora non esiste e fai una prova realistica su strada. Vale anche per i nuovi farmaci, nuovi materiali, nuovi ponti, navi, batterie, vale per tutto. Oppure puoi creare dei gemelli digitali. Fai una copia virtuale di qualcosa, per esempio uno stadio, un parcheggio, un quartiere, per capire gli effetti che avrebbero certe decisioni sul traffico, sull'inquinamento, sui consumi di energia, eccetera. Insomma, puoi duplicare virtualmente la realtà per capire come migliorarla. Le possibilità del supercalcolo sono enormi e la cosa più eccitante è che molte vanno ancora inventate. Un saluto dal Tecnopolo, Emilia Romagna, Italia.